Perché un telefono da grandi? Perché sono sicuro che se io metto questo favoloso Xperia XZ2 Compact di fianco ad un telefono più grande tra i vari top di gamma, beh, un ragazzo più giovane sicuramente sceglierebbe il telefono grande. Ma questo è un piccolo gioiellino per tutti coloro che sono un pochino più navigati, che hanno un pochino più di esperienza e vogliono un telefono prima di tutto pratico e ben funzionante. Penso che difficilmente in commercio ce ne sia uno migliore di questo sotto questo punto di vista. Scopriamolo! Allora, il design è quello che è, soprattutto dietro, dove è sfortunatamente in plastica e non è proprio un bel biglietto da visita, nonostante comunque sia impermeabile, e poi è innegabilmente spessotto, sembra un po' di tornare indietro nel tempo. Sul fronte però è decisamente molto carino, in 18 noni, con cornici ottimizzate e considerando anche i due altoparlanti frontali, con quello in basso che è incastonato molto elegantemente tra il vetro e il board in alluminio. Bella anche questa colorazione verde acqua, ma bello soprattutto come sta in mano. È una vera goduria portarselo dietro e in un attimo si capisce che questo si può usare tranquillamente senza cover, non scivola e la parte posteriore stondata sta benissimo nel palmo della mano. E sì, forse è l'unico telefono che veramente potete usare con una sola mano senza un minimo problema. Con buona pace dei sistemi di sblocco pseudo evoluti, questo ha un caro buon vecchio lettore di impronte posteriore, che in un formato così ridotto è davvero perfetto. Certo Sony ha abbandonato il lettore di impronte sul lato, c'è chi lo amava e c'è chi vi era in realtà indifferente come sottoscritto, però lo capisco. In compenso è rimasto il tasto di scatto che per alcuni nostalgici è fondamentale, anche in questo caso io gli sono abbastanza indifferente. Il display è da 5 pollici in Full HD 18.9, un bel LCD IPS Triluminos e vi lascio anche qua sotto in descrizione un approfondimento sul display che se vi interessa saperne di più sulla differenza tra un normale IPS e un Triluminos. Comunque ottima unità, molto luminosa e leggibile all'aperto e con neri che sembrano da OLED. Mancano un po' i contrasti ma nell'utilizzo quotidiano è difficile volere di più. Io comunque rimango un po' dell'idea che al top del mercato ci siano gli AMOLED ma sono anche gusti. In questi giorni mi sono trovato ad utilizzarlo parecchio in mobilità perché ho dovuto fare alcuni giri per impegni personali e veramente mi sono reso conto di quanto noi siamo pazzi ad utilizzare degli autentici padelloni. Questo è veramente comodissimo. Comunque a parte il design che onestamente potrebbe sembrare anche un po' bruttarello dalle immagini, dalle foto, ne sono assolutamente cosciente ma vi invito davvero ad andarlo a vedere in un negozio proprio perché dal vivo fa tutto un altro effetto soprattutto per le dimensioni, per le proporzioni che secondo me sono veramente azzeccate. Comunque questo smartphone non è solo design, non è solo compatto ma ha anche un cuore davvero e proprio top di gamma. E già la scheda tecnica di Xperia XZ2 Compact parla chiaro. È equipaggiato come un top di gamma e qui si capisce perché sia un pochetto più spesso della media, anche perché dentro c'è tutto quello che potreste desiderare sia a livello di sensori che come equipaggiamento e di connettività. Il risultato è un compact molto reattivo ed efficace in ogni situazione, sempre godibile aprendo le app in successione e facendo operazioni veloci saltando da un task all'altro. Lo Snapdragon 845 funziona divinamente, non scalda e non ti fa mai vedere un piccolo segno di cedimento. In effetti è la prima volta che lo provo in modo completo e se il buongiorno si vede dal mattino allora sarà un anno ottimo per tutti i top di gamma che lo impiegheranno. Questo piccolino non è proprio il mezzo ideale per giocare ma all'occorrenza sappiate che digerisce tutto senza battere ciglio. La RAM è da 4GB, forse potevano starcene 6, ma giusto per metterlo sulla scheda tecnica perché di fatto con un software come quello di Sony così vicino ad Android Stock non incontrerete intoppi. A proposito di software, Sony continua sulla linea di un substrato di codice puro con una maschera di funzionalità e app fatte in casa. Un approccio così ideale che Google l'ha preso in prestito per ideare il project Treble che ha visto Sony in prima linea e la vedrà protagonista con aggiornamenti puntualissimi. La diversità rispetto a Oreo sono nelle impostazioni del display con qualcosa in più per la calibrazione, l'utilizzo all'aperto e poi nella possibilità di personalizzare applicando motivi. Anche qui un sistema così ben funzionante da essere stato adottato da Google per l'integrazione dei temi su Android e questo la dice lunga. Per il resto Sony è concentrata sul comparto multimediale con app galleria completa e forse fin troppo complessa e una bella applicazione in musica, compresa l'integrazione con la musica in cloud. Per quanto riguarda le funzioni telefoniche direi nessun problema, è un telefono che prende piuttosto bene, l'audio è buonissimo in capsula, invece dagli speaker non è potentissimo ma è di qualità, è stereo ma non è potente per esempio come su Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus che sono decisamente su un livello superiore però ci sta anche, questa è la versione più piccola, l'XZ2 standard è decisamente più potente, ve lo posso già anticipare. Per quanto riguarda invece il discorso connettività nessun problema, è una scheda tecnica bella completa, manca la radio FM ma non è un dramma, per il resto non ho avuto nessun tipo di problema e ovviamente una scheda tecnica al passo con i tempi. Batteria 2870 mAh, non è enorme ma d'altronde il telefono è piccolo, lo spessore è dovuto anche a questo, una batteria che forse per il software, forse per il processore, forse per una combinazione di entrambi dura veramente tanto, molto di più di quello che mi sarei aspettato dalla capacità, circa 5 ore, 5 ore e mezza di display acceso in una giornata normale, di uso diciamo medio intenso, l'ho utilizzato molto in questi giorni come vi dicevo in mobilità, quindi mi è capitato anche di fare lunghi viaggi in treno dove i telefoni soffrono parecchio e in effetti in quel caso non sono riuscito ad arrivare proprio a sera inoltrata ma ci sono alcune impostazioni di risparmio energetico e diciamo che nell'utilizzo normale riuscirete sempre ad arrivare alla sera con almeno il 15-20% di autonomia, quindi un telefono che sotto questo punto di vista, anche considerato le dimensioni, assolutamente promosso. Si sente benissimo in cuffia ma non c'è il jack audio, in confezione troverete un adattatore per il jack da 3,5 con la porta type C, però anche via bluetooth c'è un audio ad alta risoluzione, quindi questo è un applauso perché è già pronto diciamo per ascoltare un buon audio anche con delle cuffie bluetooth. Ci rimane da parlare del comparto fotografico che è piuttosto classico con una fotocamera da 5 megapixel anteriore e una posteriore da 19 megapixel f2.0 senza stabilizzazione ottica, qui c'è sempre il solito discorso dell'eccellenza sui sensori mal sfruttata, sarà così anche in questo caso? Beh il sensore è lo stesso degli XZ1 ed è capace tra le varie cose di gestire un video in full hd hdr che è qualcosa di spaventoso per un appassionato di video come me, anche se decisamente è ancora un pochino da sistemare. Anche senza hdr comunque i video vengono piuttosto bene, hanno un autofocus preciso ma lineare e sono ben stabilizzati nonostante l'assenza della stabilizzazione ottica che non è certo un problema nei video quanto piuttosto in alcune foto in notturna nel punte scatta che risultano ancora un filo sotto a certi concorrenti. Il problema è solo questo della stabilizzazione, per il resto però tanta tanta qualità e un dettaglio che si sognano fior fior di nomi, i colori sono molto naturali e mai spinti come sul galaxy s9 plus per esempio. Bene anche i selfie nonostante la risoluzione sia bassina non vengono affatto male e sono allineati con i migliori le gme 10 pro anche il pixel 2 xl. Un plauso invece per aver portato i video a 960 fps in full hd dimostrando da tutti di rimanere ancora una volta un passo avanti nella concorrenza almeno a livello tecnico. Insomma davvero niente male questo piccolo sony xperia xz2 effettivamente è una proposta unica sul mercato e da questo punto di vista non ci resta che fare i complimenti a sony perché continua comunque a credere in questo progetto che secondo me è necessario nel mercato android. Un plauso personale a sony anche perché non ha copiato non si è lasciata andare alla copia del design di iphone 10 e nello stesso tempo comunque ha cambiato il suo design come richiedevano molto gli utenti avvicinando i 18 noni quindi con cornici più ottimizzate. Un telefono che forse non è perfetto ma essendo unico e andando così bene rappresenta veramente un colpo sicuro cioè una proposta sicura per andare tranquilli per chi vuole un telefono al top in dimensioni compatte. Quanto costa? 599 euro al lancio che è un prezzo alto ma non altissimo considerato che è un prezzo di listino tenete presente che comunque scenderà abbastanza velocemente come tutti di prezzo quindi nei prossimi mesi si troverà già a prezzi veramente molto interessanti non ci metterà molto a scendere anche sotto ai 500 euro comunque se lo acquistate adesso entro il 5 aprile registrate il prodotto vi regalano le cuffie sony con riduzione del rumore ambientale delle cuffie veramente di alto livello dal valore commerciale di 380 euro se non ricordo male quindi fate due calcoli anche se poi non le volete le potete vendere insomma vi rimane un telefono con una cifra spesa da medio gamma ed è effettivamente un top di gamma quindi insomma io ci farei un pensierino se amate ovviamente le dimensioni compatte vi consiglio veramente di andarlo a vedere dal vivo perché capisco che in foto in video non sia così bello esteticamente comunque per ora è tutto fatemi sapere cosa ne pensate lasciate un bel like se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al nostro canale io sono matteo vi ringrazio di aver scelto ancora una volta tutto android noi ci vediamo al prossimo video ciao